Hanno accumulato debiti erariali e commerciali per complessivi 1,8 milioni di euro attraverso società intestate a prestanome che poi hanno svuotato utilizzando false fatturazioni e quanto hanno scoperto i finanzieri di fratta maggiore che i coordinati dalla procura di Napoli Nord hanno sequestrato 260.000 euro, 7 immobili, 33 macchinari e quote di partecipazione riconducibili a tre società di calzature di crumo nevano. Complessivamente sono 14 le persone indagate ritenute dagli inquirenti responsabili di bancarotta fraudolenta e missione e utilizzo di false fatturazioni per oltre 250.000 euro autoriciclaggio di risorse finanziarie. I finanzieri hanno eseguito anche delle perquisizioni nelle sedi delle società e nelle abitazioni degli indagati. Le indagini sono scattate nel 2020 e i militari hanno anche notificato alle 14 persone indagate altrettanti avvisi di conclusione di indagine.